Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera torniamo ad occuparci delle vie urinarie, soprattutto, ahimè, dei tumori che colpiscono questo apparato particolare del nostro corpo. Lo facciamo con il nostro ospite di questa sera, a cui diamo subito il benvenuto, il dottor Stefano Legramanti, specialista in urologia, dirigente medico presso l'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia. Benvenuto. Grazie, buonasera e grazie dell'invito. È veramente un piacere essere qui e tornare. Mi ha fatto molto piacere. Allora, iniziamo a vedere, innanzitutto, quali sono le principali neoplasie che colpiscono il nostro apparato urinario. Allora, intanto, secondo me, bisogna fare un attimo di chiarezza su cosa è l'apparato urinario. Assolutamente sì. Partendo dai reni e scendendo poi per quei tubi che portano l'urina fino in vescica, che si chiamano ureteri, e poi arrivare dalla vescica e l'uretra. Il rene è un organo un po' particolare perché è formato essenzialmente da due unità distinte, che sono la parte che filtra l'urina e la parte che poi invece viene immagazzina l'urina che viene filtrata e poi viene spedita fino alla vescica. In questo organo i due tipi di tumori sono molto differenti, cioè i tumori che nascono dalla parte funzionante del rene non hanno nulla a che vedere con i tumori invece che nascono dalla parte di raccolta dell'urina, che sono invece in realtà lo stesso tipo di tumori che troviamo per l'uretere e poi per la vescica. Perciò quando parliamo di tumori delle vie urinarie ci soffermeremo su quei tumori che nascono dal sistema escretore, perciò dai calici renali, dalla pelvi, passando per gli ureteri e arrivando poi fino alla vescica. Ecco, ma oltre a questo esiste anche una classificazione di tumori o quella che si utilizza, ovviamente poi i nostri telespettatori non conoscono, che è quella che classifica i tumori in generale? Allora, ci possono essere diverse classificazioni, non ce n'è solamente una, dalla sede della neoplasia, infatti si possono dividere dei tumori, delle vie escretrice, quindi dell'alta via, che comprendono sia i calici che la pelvi renale, che l'uretere e tumori invece della bassa via urinaria, quindi della vescica o dell'uretra, oppure possono essere suddivisi invece per la tipologia di tumore che insorge. Nella maggior parte dei casi sono tumori uroteliali, che nascono proprio dalle cellule dell'urotelio, che sono quelle che tappezzano tutta la via escretrice. Oppure ci possono essere in una percentuale minore dei tumori tipo squamosi, perciò che non derivano direttamente dall'urotelio. La maggior parte, come abbiamo detto, vengono dall'urotelio e rendono ragione circa il 75% delle neoplasie urologiche di questi tratti. Esistono poi delle altre classificazioni, ma principalmente sono queste. Ecco, ma se vogliamo vedere invece la frequenza con cui si presentano nella popolazione? Allora, ripeto, parlando sempre solamente di tumori uroteliali, quindi sistema escrettore, uretere e vescica, sono circa 10 persone su 100.000 abitanti all'anno nell'Unione Europea. Sono dei dati che variano a seconda del sesso, per cui c'è una prevalenza nel sesso maschile rispetto al femminile, anche se ultimamente si sta avendo un'inversione di tendenza. E questo è legato al fatto che, purtroppo, senza che me ne vogliano, le donne hanno cominciato ad avere un po' di cattive abitudini che prima avevano solamente gli uomini. Ci sono aumentate le donne che fumano, ci sono aumentate le donne che fanno abuso di alcolici, per cui sono dei fattori di rischio che predispongono allo sviluppo delle neoplasie urologiche uroteliali. Perciò queste abitudini hanno portato adesso a, non dico a equiparare, però ci sta una bilancia quasi nel 50% tra uomini e donne, quando invece prima erano tumori che erano molto più frequenti nel sesso maschile. Ecco, se invece, appunto, ci ha forse anticipato la prossima domanda, se vogliamo parlare di fattori di rischio e soprattutto parliamo anche di cause? Assolutamente sì. Allora, nei tumori uroteliali il maggior fattore di rischio è sicuramente il fumo di sigaretta, che rende ragione quasi del 70% dei tumori che insorgono in questo livello. È molto semplice spiegare il motivo, cioè le sostanze cancerogene che vengono assorbite dal circolo, poi passano attraverso rene e vengono filtrate e in questi sistemi di calici, pelvi, uretere, vescica, che sono dei sistemi, diciamo, di raccolta, si depositano, ok? E perciò riescono a dare questa azione cancerogena. Per cui il fumo di sigaretta è sicuramente il fattore più importante ed è un fattore anche per cui si può fare prevenzione. Quindi non fumare chiaramente riuscirebbe a ridurre notevolmente l'incidenza di queste neoplasie. Ci sono poi dei fattori invece che sono legati a fattori occupazionali, per cui l'esposizione prolungata a solventi o a vernici particolari tipi, che però chiaramente erano molto più frequenti quando non c'era questa attenzione nei confronti della medicina preventiva, della medicina del lavoro. Attualmente con l'utilizzo di presidi sul luogo di lavoro il numero di neoplasie legate a questo tipo di problematiche è calato molto. È curioso vedere come gli studi adesso si stiano spostati invece sul capire se anche la sigaretta elettronica o questi nuovi tipi di fumo possono dare questo tipo di problematiche. In realtà sostanze cancerogene sono state ritrovate nelle vie urinarie anche nei pazienti che fanno utilizzo di sigarette elettroniche. Ma al momento non c'è nessuna correlazione diretta, come invece per il fumo di sigaretta, sul fatto che possono poi portare a essere causa di una percentuale tumore della via iscretrice e delle vie urinarie. Cominciamo a parlare di sintomi, quali possono essere i principali sintomi e soprattutto oserei dire anche i campanelli d'allarme che poi mi possono far drizzare le antene e dire mi rivolgo magari al medico di famiglia o magari direttamente allo specialista. Assolutamente, allora il sintomo più frequente è sicuramente la presenza di sangue nelle urine, cioè il paziente, il soggetto che va a urinare trova sangue nelle urine. Questo perché, come dicevamo, la via iscretrice e la vescica sono degli organi non solo di passaggio ma anche di deposito, per cui quando si formano dei tumori l'aumento incontrollato di queste cellule con la neoangiogenesi, cioè la formazione di vasi neoformati, che non hanno le stesse caratteristiche dei vasi normali, sono più facili a sfaldarsi, più facili a rompersi, causano dei sanguinamenti che poi si depositano nella via iscretrice e nella vescica. Perciò la presenza di sangue durante la minzione, quando uno sta facendo pipì, è il primo campanello d'allarme e sicuramente il sintomo più frequente. Vanno poi distinti quelli che sono i sintomi dei tumori dell'alta via iscretrice e quelli della bassa via iscretrice, perché se per l'alta via iscretrice sicuramente l'ematuria, detta in termini scientifici, il sangue nelle urine è l'aspetto principale, quando si parla invece di vescica, oltre alle mature ci sono anche dei sintomi di irritazione, perciò il fatto di andare molto spesso in bagno, il fatto di sentire del discomfort, possono nascondere al di sotto delle problematiche tumorali della vescica. Non è detto che tutti i pazienti che hanno questi sintomi hanno un tumore, perché ci sono delle altre patologie, come patologie prostatiche, le infezioni delle virinarie, che hanno una sovrapposizione di questi sintomi. Quello che è importante capire è che se questi sintomi dovessero perdurare, oppure i trattamenti normali non dovessero risolvere questi sintomi, un campanello d'allarme che ci possa far pensare che ci possa essere qualche cosa di più, qualche cosa da indagare, deve suonare, perciò dobbiamo indirezzarci verso delle indagini che ci portano a capire quale potrebbe essere il problema. Ecco, ma si può qualche modo fare della prevenzione? Allora, attualmente la prevenzione, come abbiamo detto prima, dovrebbe partire dall'abitudine, quindi la stensione dal fumo di sigaretta in prima battuta. Anche qui sono stati fatti tantissimi studi pubblicati sulla possibilità di fare uno screening per i tumori delle vie urinarie. In realtà i dati non sono confortanti, cioè al momento non è indicato fare nessuno screening per questo tipo di problematiche, per essenzialmente due motivi. Intanto perché ci possono essere delle lesioni talmente piccole prese in determinate situazioni che non sarebbero diagnosticabili comunque. E in secondo luogo perché, ahimè, il dispendio economico per fare uno screening e le metodiche che devono essere utilizzate renderebbero insostenibile, non solo per il sistema sanitario nazionale, ma per qualsiasi sistema sanitario, affrontare questo tipo di problematiche. Perciò al momento non abbiamo nessun esame che abbia un'alta sensibilità e un'altra specificità a basso costo che ci possa dire, usiamolo come test di screening per cercare di evitare che si arrivi dalle situazioni avanzate. È da dire però che fortunatamente, visto che abbiamo delle metodiche sempre più precise e comunque c'è una consapevolezza maggiore nella popolazione rispetto ai sintomi, quindi l'ematuria, sanguinamenti, eccetera, eccetera, che circa 75% dei casi di tumore della via scretrice, di tumore urinaria, della via urinaria, si ritrovano in una situazione iniziale, quindi non avanzata. Perciò possono essere trattati in maniera conservativa piuttosto che molto demolitiva. Questo fortunatamente è la situazione, la fotografia attuale della situazione italiana e europea. Ecco, ma in qualche modo, ovviamente abbiamo visto il fumo di sigaretta, ci sono anche altre cause voluttuarie, mi riferiscono solo all'alimentazione, piuttosto che all'attività fisica. Allora, anche qui, come dicevamo, studi ne sono stati fatti moltissimi. Al momento uno stile di vita sano, quindi l'alimentazione sana, è indicato in generale per qualsiasi problematica organica, per cui non solo per il problema delle via urinarie, ma per qualsiasi tipo di problema. Se dovessi dire se c'è un alimento o un tipo di alimentazione che più frequentemente è associata allo sviluppo di tumori della via scretrice, le dico di no, nel senso che in questo momento né una sostanza né un tipo di alimentazione è stata valutata come essere predisponente l'insorgenza di questo tipo di tumori. Lo stile di vita sano, assolutamente sì, non solo dal punto di vista preventivo, ma anche dal punto di vista poi sia diagnostico che eventualmente terapeutico, perché chiaramente un paziente che arriva con una buona performance ha migliore capacità di riprendersi da un eventuale intervento, perciò se non è direttamente interessato nello sviluppo è sicuramente direttamente interessato nella buona riuscita di una terapia adeguata. Questo è importante, assolutamente. Non lo smetteremo mai poi di consigliare sempre ai nostri telespettatori una vita, diciamo sempre, bilanciata, una dieta bilanciata, attività fisica. Assolutamente sì. Tutte quelle precauzioni insomma che rendono la nostra vita sempre il migliore possibile anche in tema di prevenzione. Io a questo punto do la linea all'allergia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui con noi di Sen Salute perché con il dottor Legramanti continueremo a parlare di tumori dell'apparato urinario. Bentornati qui con noi di Sen Salute, questa sera stiamo parlando dei tumori dell'apparato urinario. Allora, dottor Legramanti, abbiamo visto insomma, abbiamo già diciamo inquadrato il problema e parliamo invece adesso di diagnosi, giustamente l'abbiamo un po' anticipato, ma esattamente quali esami strumentali vengono utilizzati e soprattutto quali sono insomma i passi da compiere una volta che, ahimè, si prospetta il quadro di una possibile neoplasia? Allora, ci sono degli esami che vanno su vari livelli. Chiaramente si parte da degli esami di primo livello, quindi poco invasivi, che ci possono dare delle informazioni importanti, come per esempio una, dico banale, anche se non lo è, ecografia dell'addome, dove si possono vedere eventualmente delle masse renali, dei problemi di idronefrosi che possono nascondere una difficoltà al passaggio dell'urina fino in vescica, dei immagini di plus della vescica, quindi dei polipi vescicali, volgarmente detti, fino a passare poi a delle indagini citologiche, quindi fare un esame particolare dell'urina, che è il citologico urinario, in cui non si va a valutare la qualità e la quantità delle sostanze disciolte nell'urina stessa, ma è proprio un esame citologico, cioè si vanno a centrifugare, a prendere i nuclei delle cellule che sono presenti nell'urina e fare un'analisi di questi nuclei. Queste sono delle indagini di primo livello perché sono delle indagini poco invasive, se non per nulla, e che danno delle buone indicazioni, anche se la diagnostica fine è il gold standard per i tumori, diciamo, delle vie urinarie, sicuramente l'attacca con il mezzo di contrasto. Questo perché? Perché ci fornisce non solo una informazione dal punto di vista morfologico, quindi di un'eventuale presenza di un tumore, ad esempio del rene, ma la sua posizione, la sua dimensione, la presenza di organi vicini che possono essere stati già intaccati, e poi ci dà anche un'informazione funzionale su come funziona il sistema dell'apparato urinario, questo è molto importante per la pianificazione poi di un eventuale trattamento. Perciò direi che come gold standard in questo momento l'utilizzo dell'attacca con il mezzo di contrasto, o uro-tacca è sicuramente il mezzo principale per fare una diagnosi di tumore delle vie urinarie. Si discosta un po' da questo, per esempio, la prostata, perché anche se non è un organo direttamente interessato nelle vie urinarie, è un organo sicuramente contiguo e che fa parte dell'apparato urogenitale. In questo caso l'attacca ha un valore assolutamente marginale, ma ci sono degli esami tipo il PSA che ci possono indirizzare verso una diagnosi che poi può essere fatta o con una biopsia prostatica o con una metodica intermedia tipo risonanza magnetica che ci può dare una mano nel eseguire una biopsia solamente nei pazienti che necessitano veramente. Per cui direi che sono questi in questo momento. Sulla biopsia invece delle masse renali ci sono dibattiti aperti, perché molto spesso l'imaging, cioè la risposta che ci dà un'attacca, è già sufficiente per indirizzare un percorso diagnostico, perciò molto spesso la biopsia renale non viene eseguita perché non dà delle informazioni ulteriori rispetto a quelle che potremmo avere con un'attacca. Ecco, io vorrei soffermarmi un po' in particolari su tre tappe, mi sento un po' questo termine proprio, dell'apparato urinario, quindi rene, vescica e ovviamente per il mondo maschile perché poi come vedremo è anche abbastanza frequente la prostata. Ecco, con che approcci anche a livello terapeutico sono i tumori insieme dal rene? Dal rene, allora devo dire che negli ultimi anni la tecnologia sia dal punto di vista diagnostico, come dicevamo prima c'è una migliore definizione delle immagini, sia dal punto di vista terapeutico con delle metodiche mini invasive ha permesso quando ci sono determinate circostanze per cui il tumore che troviamo nel rene è localizzato, perciò non ha intaccato altri organi, è posizionato in una certa zona del rene e non è molto centrale diciamo, di intervenire riuscendo ad asportare solamente la massa renale e non tutto il rene. Questo è un passo molto importante dal punto di vista terapeutico perché ci permette di salvaguardare una parte che invece è funzionante ed è buona di cui il soggetto, il paziente ha bisogno e che può permettergli di vivere una vita assolutamente normale nonostante abbia fatto un intervento per un tumore renale. È chiaro che non è possibile per tutti i pazienti né per tutti i tumori che noi troviamo nel rene, però diciamo che l'indirizzo attuale è quello di cercare sempre di più di localizzare la malattia, intervenire su quella e poi magari fare dei controlli ravvicinati per vedere che l'intervento sia andato a buon fine. Questa è una cosa che è particolarmente importante nei soggetti per esempio che possono essere diabetici o che hanno già un'insufficienza renale in cui mantenere anche una parte di parenchima renale funzionante sano dove c'è stato il tumore gli aiuta veramente a non finire in dialisi, a non avere problemi successivamente. È chiaro che questo poi è permesso in maniera molto più facile per il chirurgo e buona riuscita per l'intervento da nuove tecnologie di cui probabilmente parleremo successivamente. Per quanto riguarda invece la vescica dobbiamo distinguere due grosse situazioni. Quando noi ci approcciamo per fare da prima una diagnosi e poi una terapia, cioè questi polipi che vengono volgarmente detti così vescicali non si differenziano tanto sulla malignità o la benignità perché sono praticamente tutti dei carcinomi maligni. Ma quello che fa la differenza se noi pensiamo alla vescica come a una cipolla fatta tutta a strati è quanto questo polipo, le radici di questo polipo si approfondano dentro la parete vescicale. Per cui se siamo in una situazione in cui c'è un interessamento superficiale della vescica possiamo intervenire solamente togliendo il polipo dall'interno, perciò facendo un intervento endoscopico e successivamente valutando una non ripresa della malattia. Quando invece purtroppo il polipo si addentra troppo e arriva fino al muscolo della vescica l'intervento che viene proposto è quello di asportazione della vescica stessa. Anche qui nei soggetti che ne possono beneficiare per esempio una cosa che si può fare per cercare di migliorare la qualità della vita del paziente è ricostruire con un segmento intestinale una vescica per cui non avere più il sacchetto di derivazione ma avere una nuova vescica fatta con l'intestino che viene ricostruita e posizionata al posto della vescica che è stata tolta. Sulla prostata invece ci sono vari approcci che possono essere sia la radioterapia fino ad arrivare a una sorveglianza nei casi meno importanti, meno difficili, fino ad arrivare poi all'intervento di asportazione della prostata. Tutte queste tre tappe di cui si stava parlando beneficiano sicuramente negli ultimi anni dall'implementazione della tecnologia per cui se dapprima gli interventi erano fatti col taglio volgarmente detto adesso con la laparoscopia ed in particolare con la robotica ne riusciamo a dare dei risultati migliori con un'invasività minore. Questo sicuramente è un vantaggio per il paziente. Ecco, tralasciando ovviamente la prostata che ahimè è un problema di noi maschietti ma esistono differenze tra, anche come sintomatologia, anche di trattamento ovviamente, tra uomo e donna? No, non esistono delle differenze perché diciamo che strutturalmente se non proprio l'ultimo tratto che è l'uretra, quindi diciamo il canalino che porta la pipì dalla vescica all'esterno che è molto più corto nella donna e molto più lungo nell'uomo non hanno una differenza né anatomica né dal punto di vista genetico per cui non ci sono differenze nella sintomatologia. Quello che può essere differente invece sono i fattori di confondimento cioè se nella donna è molto più frequente avere un'infezione nelle vie urinarie che può mimare la presenza invece o diciamo nascondere la presenza di un problema tumorale della vescica nell'uomo essendo meno frequente è molto più difficile scambiare della sintomatologia tipo irritativa con un problema invece infettivo e non un problema tumorale perciò non ci sono delle differenze nei sintomi se non in rarissimi casi né nelle differenze di trattamento a parte per la prostata chiaramente. Certo, certo ovviamente. Ecco ma non so se è una leggenda metropolitana insomma una fake news come si dice nella donna per esempio in menopausa c'è quasi, cioè si può confondere con i sintomi a livello della vescica? Assolutamente sì, proprio questo è forse l'unica variabilità che c'è perché la menopausa induce una sintomatologia legata all'atrofia dei tessuti legata al rimaneggiamento degli ormoni circolanti che può colpire sia il tratto genitale ma anche il tratto urinario perciò come giustamente hai suggerito le donne in menopausa possono avere dei sintomi che mimano e nascondono poi invece un tumore vescicale classicamente ci si rivolge al ginecologo, all'urologo perché ci sono dei sintomi di irritazione se si sottovalutano questi sintomi per troppo tempo soprattutto come dicevamo prima se le normali terapie non fanno effetto potrebbe esserci che sotto ci siano delle condizioni invece oncologiche che vanno invece sviluppate e vanno diagnosticate ecco questo è molto importante ecco per quanto riguarda sempre in tema di prevenzione quanto è, questa è una cosa a cui mi preme molto sottolineare ogni quanto andrebbe fatto un controllo soprattutto anche per quanto riguarda l'uomo per quanto riguarda appunto il tumore della prostata il mese scorso è stato il mese della prevenzione della prostata Movember Movember e quindi insomma ogni quanto è meglio controllarsi? allora chiaramente dipende dall'età del soggetto cioè se per i tumori della prostata in caso di familiarità quindi un parente di primo grado diretto che ha avuto già problemi oncologici prostatici è raccomandato dopo i 55 anni se c'è una storia invece di una familiarità negativa con degli esami che sono tutto sommato nella norma si può cominciare dai 60 è curioso invece vedere come molto più spesso tumori sia del rene che della vescica vengono diagnosticati come dei tumori incidentali e mi spiego cioè molto spesso non danno della sintomatologia in particolare il tumore del rene perciò vengono scoperti facendo delle indagini per esempio l'ecografia chieste per altre motivazioni non lo so, un calcolo della colecisti la colica renale allora facendo un'ecografia saltano fuori anche la presenza di tumori del rene o tumori della vescica che erano misconosciuti perché non avevano dato segno di sé questo aumento nell'utilizzo di metodiche radiologiche verso altre patologie che non siano patologie oncologiche nell'apparato urinario ci permette di diagnosticare questi tipi di tumori molto spesso in fase precoce perciò riuscire a dare un trattamento al paziente che non è un trattamento molto demolitivo e questa è una cosa molto importante è importante assolutamente ecco io do a questo punto la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità ma tornate con noi qui di Sen Salute perché con il dottor Legramanti continueremo a parlare di tumori dell'apparato urinario Bentornati qui con noi di Sen Salute questa sera stiamo parlando di tumori dell'apparato urinario ecco vorrei soffermarmi un attimo su quello che dicevamo prima sulla ricostruzione perché ovviamente si sente sempre parlare di chirurgia ahimè distruttiva anche se invece giustamente come diceva lei prima si va sempre fortunatamente di più verso la chirurgia conservatrice però parliamo anche di ricostruzione cioè è possibile ricostruire in qualche modo le strutture anatomiche andate perdute? sì in particolare come dicevamo prima per la vescica cioè ci sono delle tecniche che ci permettono tramite l'utilizzo di segmenti di intestino di ricostruire un serbatoio che abbia la stessa funzione della vescica chiaramente il messaggio che non dobbiamo dare è che sia una possibilità che può essere che può essere predisposta per tutti i pazienti perché ci servono delle determinate caratteristiche tra cui sicuramente il fatto che il tumore che noi andiamo a operare non sia un tumore molto invasivo perché in quel caso lasciare anche solamente poco tessuto per cercare di costruirci sopra una nuova vescica potrebbe essere pericoloso però in effetti la terapia ricostruttiva è una terapia a cui noi dobbiamo sempre aspirare perché anche solamente dal punto di vista psicologico dal punto di vista estetico dal punto di vista funzionale il fatto di poter ricostruire un serbatoio vescicale riposizionato nella stessa posizione dove era la vescica precedentemente facilita anche per il paziente l'affrontare una terapia molto invasiva ci sono diversi tipi di queste derivazioni con l'intestino la più classica viene chiamata VIP o vescica eleale padovana perché è stata studiata e predisposta proprio all'università di Padova in particolare dal professor Artibani e ci permette proprio tramite lo studio che è stato fatto si incide l'intestino in una determinata maniera vengono risformate delle suture in modo tale che la contrazione che rimane comunque dell'intestino per un certo periodo perché intestino è intestino rimane non dia poi delle fughe di urina perciò è stata studiata l'innervazione noi sappiamo dove fare queste incisioni per andare a ricostruire poi una vescica che abbia il più possibile una caratteristica di serbatoio e non di contrazione legata alle onde peristaltiche dell'intestino stesso quello che è molto interessante è che ultimamente si è cercato di fare questo tipo di chirurgia mediante l'utilizzo anche della robotica per cui se agli albori della robotica questo tipo di intervento è un intervento molto difficile, molto dispendioso anche in termini di ore operatorie perché è molto difficile da fare la consapevolezza, l'esperienza che è stata maturata invece ha portato in questo momento tramite l'utilizzo del robot il robot da Vinci o altri tipi di robot che sono presenti ormai a poter unire sia la mini-invasività dell'intervento stesso a anche una mini-invasività dal punto di vista sia estetico che di impatto per il paziente perché si possono ricostruire delle vesciche tutto tramite un intervento robotico quindi senza dover eseguire poi dei tagli Interessante, soprattutto affascinante mentre parlavo mi immaginavo un po' la cosa è bello notare come la medicina ha fatto dei passi da gigante a proposito di passi da gigante ve lo sorprendo anche sul fatto delle nuove tecnologie abbiamo parlato giustamente della robotica però voglio dire, la ricerca poi parleremo anche di ricerca sta veramente continuando il suo percorso Assolutamente quello che si cerca di cambiare come dicevamo prima è proprio l'approccio se prima si diceva c'è un tumore di un organo dobbiamo asportarlo perché chiaramente togliamo tutto quello che è possibile per salvaguardare la sopravvivenza del malato gli studi, le nuove tecnologie non solo dal punto di vista operativo ma cominciamo prima anche dal punto di vista diagnostico ci permettono di avere una precisione tale da fare in modo che molto spesso non ci debba ricorrere all'asportazione completa dell'organo faccio un esempio che magari non è molto conosciuto quando parlavamo prima di tumori dell'alta via cioè tumori che colpiscono il rene ma non nella sua parte di filtraggio ma nella sua parte di raccolta dell'urina una volta per qualsiasi tipo di questi tumori l'intervento che veniva proposto è quello di asportare completamente il rene con tutto l'uretere faccio un intervento molto invasivo con l'utilizzo adesso di tecnologie flessibili quindi ureteroscopi flessibili che ci permettono di risalire tramite l'uretra la vescica e arrivare fino dentro il rene uniti a particolari tipi di laser abbiamo potuto approcciare quelli che vengono definiti tumori dell'alta via escretrice chiaramente apro sempre questa parentesi non per tutti e non per tutti i tumori in maniera conservativa cioè non c'è più bisogno per tanti tipi di tumori di asportare completamente il rene assieme a tutto l'uretere ma basta risalire con questi strumenti fibre ottiche digitali fino ad arrivare all'interno del rene stesso e con delle sonde laser particolari andare a bruciare questi tipi di tumori questo è sicuramente una delle innovazioni più importanti perché ci permette di salvaguardare il rene come unità funzionante ma soprattutto e va di pari passo con l'innovazione tecnologica perché pensare a una cosa del genere prima dell'avvento di questi ureteroscopi molto sottili e digitali era praticamente impossibile interessantissima questa cosa ricorda un po' i film di fantascienza quasi un film di fantascienza non è fantascienza per fortuna per quanto riguarda invece la ricerca scientifica che punto siamo arrivati? allora la ricerca scientifica in questo momento sta cercando sempre più una ricerca del tipo genetico cioè si sta cercando di capire quali possono essere quei fattori di cui parlavamo prima predisponenti eventualmente allo sviluppo di tumori non solo urogenitali ma anche di tutti i distretti per cui la ricerca in questo momento va verso una consapevolezza su quali sostanze su quali geni si possa intervenire per cercare di evitare o avere una diagnosi molto precoce un altro ramo della ricerca che si sta sviluppando sono quelle sostanze quindi chemioterapici, immunoterapici anticorpi monoclonali che possono essere utilizzati sia in fase pre-intervento per ridurre la massa tumorale quindi avere un'invasività chirurgica minore sia su quei casi in cui la chirurgia purtroppo non è sufficiente per cui si stanno sviluppando delle nuove sostanze per la prostata per esempio fortunatamente si stanno sviluppando tantissime e molto efficaci che contrastano una ricorrenza o una persistenza di malattia anche dopo il tumore perciò pazienti che hanno un aumento del PSA dopo aver fatto un intervento o la radioterapia che una volta purtroppo dove potevamo solamente tenere sotto controllo cercando di curare i sintomi ultimamente negli ultimi anni sono state messe in commercio delle sostanze che non solo chemioterapici ma immunoterapici ormonoterapici che ci permettono di curare anche malattie metastatiche questo si sta cercando di fare anche per i tumori la vescretrice per i tumori renali anche se la situazione in questo campo è un pochino più complessa perché i risultati non sono in questo momento così incoraggianti o comunque passi sono stati fatti ma ci devono essere ancora tanti altri passi da fare per dare un buon profilo di sopravvivenza nei pazienti che purtroppo solo con l'intervento chirurgico a volte non riescono ad essere curati completamente Interessante ecco siamo arrivati in chiusura di trasmissione possiamo dare dei consigli pratici ai nostri telespettatori e telespettatrici riguardo a non dico tanto a prevenzione ma soprattutto ai famosi campanelli d'allarme e come non dico curarsi insomma prevenire insomma cercare che non succeda il peggio insomma che non diventi troppo tardi non diventi troppo tardi ma il primo consiglio sicuramente è quello di smettere di fumare per cui chi ci ascolta non ci smetteremo mai di dire non smetteremo mai di dire e non smetteranno mai di fumare ma speriamo speriamo purtroppo allora devo dire che vediamo anche molto spesso dei pazienti che hanno veramente una diagnosi tumore uroteliale in cui si spiega che il problema è il fumo di sigaretta ma è che continuano imperterrito a fumare perciò secondo me questo è il primo messaggio per chi può per chi riesce smettere di fumare sicuramente è la cosa più importante detto questo l'altro consiglio è quello di non sottovalutare mai sintomi cioè ci capita spesso quando soprattutto vediamo delle situazioni oncologiche avanzate di interrogare il paziente e sapere che magari già un anno due anni prima aveva avuto dei sintomi che se indagati avrebbero potuto portare a una diagnosi precoce perciò a un trattamento molto molto meno invasivo di quello che poi hanno in realtà ma che sono stati non a cui non è stata trattata abbastanza importanza un po' per paura del paziente stesso un po' perché come molto spesso i sintomi dei tumori urogenitali si mischiano un po' con i sintomi di altre patologie benigne perciò come dicevamo prima il mio consiglio è non sottovalutare mai i sintomi qualora i sintomi come il bruciore urinario andare molto spesso in bagno il sanguinamento eccetera eccetera nell'urina eccetera eccetera se passano con i normali con le normali terapie va bene ma se non passano accanirsi continuamente facendo ulteriori cicli di terapie che non servono potrebbe nascondere invece un problema ben più grave perciò se la stensione del fumo e sigaretta è la prima cosa è dare la giusta importanza la giusta importanza ai sintomi meglio un controllo piuttosto che poi ritrovarsi a distanza di tempo in una situazione che poi è difficilmente risolvibile e poi come dicevamo prima come suggeriva giustamente lei l'alimentazione l'attività fisica perché il performance status del paziente lo aiuta davvero ad affrontare in maniera molto più non dico facile ma molto più consapevole anche un eventuale trattamento chirurgico assolutamente anche questo non lo smetteremo mai di dire meglio un controllo negativo in più che una malattia assolutamente invalidante anche in questo caso successivamente benissimo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione io ringrazio il dottor Stefano alle gravanti prestato con noi ripeto specialista in urologia dirigente medico presso l'istituto clinico Sant'Anna di Brescia grazie a tu un piacere grazie infinite come sempre do appuntamento alla prossima settimana ma vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web www.informatv.it per quanto riguarda il sito della nostra trasmissione www.tecnomedicina.it per quanto riguarda il nostro sito web di informazione medico scientifica ringrazio Andrea Reggio ringrazio RBM Group ringrazio come sempre l'emittente Sela TV e come sempre finale di trasmissione non vi resta che augurare a tutti buona salute grazie a tutti